La bella esperienza di Ciac Sigita sta per giungere al termine. Ieri mattina infatti è stato girato l'ultimo degli spot che concorreranno per il primo posto dell'edizione 2014 del concorso nazionale per spot sociali Ciac Sigita Agropoli Spot Festival. Ad interpretarlo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sorrento, giunti ad Agropoli in gita scolastica, ma anche per partecipare al concorso ideato dalla Promomed e patrocinato dal Comune di Agropoli. Come sempre a guidare i giovani attori nella realizzazione dello spot sociale da loro scelti, il regista Gianni Petrizzo e la troupe di Cilento Channel. In compagnia degli amici dell'Istituto Comprensivo Sorrento, in compagnia di Anna e Antonietta, i ragazzi hanno realizzato uno spot sul bullismo e andiamo a capire di cosa si tratta questa ennesima realizzazione di Ciac Sigita. Allora, il nostro istituto partecipa ad un progetto a livello regionale, che è il progetto Label, e fa parte dell'osservatorio regionale sul bullismo. È una realtà che non è del tutto avulsa dal nostro contesto, benché sia una scuola primaria, soprattutto per quanto riguarda il nuovo aspetto del bullismo, il cyberbullismo. Questo è il motivo per cui, dall'inizio dell'anno scolastico, abbiamo realizzato con i bambini un percorso, un percorso diviso in varie fasi, l'ultima delle quali era proprio la partecipazione a questa stupenda esperienza, devo dire, di Ciac Sigita. Volevo ringraziare la nostra dirigente scolastica, la dottoressa Daniela Denaro, che ci ha dato la possibilità e l'appoggio affinché tale iniziativa Ciac Sigita potesse realizzarsi. Bene, grazie. E oltre all'azione didattica che i ragazzi hanno svolto sul territorio, hanno anche ammirato le bellezze di questo paesaggio cilentano. Dove siete stati in visita? Allora, ieri mattina siamo partiti da Sorrento, siamo stati a Pestum, abbiamo ammirato la maestosità dei templi, i bambini sono stati meravigliosi, attenti e bravissimi. Dopodiché ci siamo incamminati verso Castellabate, dove abbiamo visto tutte le location del film Benvenuti al Sud. Noi abbiamo ammirato dei paesaggi molto suggestivi e sia i bambini che i genitori sono stati entusiasti della giornata. Siamo stati ricevuti dalle persone del luogo in modo molto amichevole. Oggi abbiamo terminato ad Agropoli, è stato meraviglioso, è una cittadina bellissima, spettacolare, è molto amena, molto fantastica, è stata una gita bellissima. Grazie prof, sentiamo il parere di uno dei protagonisti di questo spot. Che cosa ne pensi di questa esperienza? A me ne è piaciuta. È la prima volta che hai girato un film? Sì. Ecco, secondo te le difficoltà nel girare le scene, nel recitare? Sì, sono molte, però se ci impegniamo lo possiamo fare. E questo l'avete fatto secondo voi? Sì. Ecco, Francesca, tu sei stata la protagonista di questo spot. Ci vuoi raccontare la tua esperienza dal di dentro, l'emozione, la difficoltà oppure la facilità nella recitazione? Spiega ai nostri telespettatori qual è stata la tua esperienza in me. Sinceramente mi sono divertita tantissimo nel farlo, solo che a volte quando giravamo le scene magari che dovevo essere più triste, a volte mi scappava da ridere perché è stata un'esperienza davvero bellissima e mi sono divertita tantissimo. Grazie Francesca. Ok, infine un parere sul paesaggio, il mare anche a Sorrento, no? Avete il mare? Sì, questo paese è bellissimo. Tu che dici invece? Sì, è molto bello, anche il castello. Grazie ragazzi, tutti insieme vogliamo salutare Cilento Channel? Sì. Allora al mio tre, tutti insieme, Cilento Channel, ok? Uno, due, tre. Cilento Channel!